E' Cristi ma un? Cristian, non vieni a te maudi. Cristian, vai trebata il gas でcorso? Cristian, vi in grado. Cristian, vieni a te capa, maudi? Siamo. Per il versetto. Poi si avreste le mani? Poi resta da senso la passione. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.